Garantita la prosecuzione dei servizi erogati dal centro di diagnosi e trattamento intensivo precoce dello spettro autistico e dal centro di urno per l'Alzheimer, oltre quelli previsti dal piano sanitario nazionale quali la riabilitazione nei reparti cosiddetti critici che rischiavano di essere interrotti a causa della scadenza il 31 dicembre dei contratti degli operatori sanitari, contratti Coco Pro non più rinnovabili così come previsto dal Jobs Act. Una corsa contro il tempo quella avviata dalla direzione strategica dell'ASP grazie alla collaborazione di tutti gli uffici per garantire la prosecuzione dei servizi rientranti tra i LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza, che ha portato alla stipula di 59 contratti. È stata un'impresa veramente ardua, hanno lavorato 19 commissioni, quindi 72 dipendenti, in doto più tutta l'organizzazione dell'azienda, le segreterie, i protocolli, perché abbiamo avuto circa 1700 domande. Sono stati selezionati i migliori e siamo sicuri di poter garantire questo servizio per tutto il 2017. Nel frattempo vedremo se riusciremo a far inserire questo personale nel contesto della pianta organica definitiva e quindi rendere più stabile il servizio. Oggi è una bella giornata perché 59 persone avranno la possibilità di lavorare nel 2017. È una bella giornata perché sto verificando l'efficienza della nostra azienda che ha raggiunto dei livelli di attività che sono veramente invidiabili. Questa attività importantissima per l'azienda è stata da noi presa in grandissima considerazione anche al supporto tecnico che ci è stato fornito dall'assessorato della salute. Fa parte di un contesto dove noi abbiamo garantito la possibilità a 59 lavoratori di lavorare intensamente all'interno dell'azienda, così come fa parte del contesto dell'azienda la possibilità di avere prorogato anche gli LSU e di avere prorogato tutti i contratti a tempo determinato per mantenere i livelli essenziali. Un sospiro di sollievo non solo per i lavoratori ma anche per le tante famiglie degli assistiti in attesa che si istituzionalizzino i servizi.